Saluti e benveniti da Limba Germana! Con Ghehat, sono Ghehat Oben, sono professore di Limba Germana di Hamburg, Germania. Astas continuiamo la nostra resursa online per Limba Germana. In start io non sono affiliato a nessuna di queste pagine, in afara di pagina mea, di pe YouTube. Ti recomand che in visibilità s'abonese, perché io credo che questa è unica resursa, di fatto, pe YouTube, un Ghehat, un Ghehat, che è anche un gruppo di professore, che ha detto in lingua romana come si è in lingua Germana più produttiva con una quantità di lingue. Il minus è che parla con la Germania con un accent, che si è molto stracato. Ok, Deci, di altri giorni le recomand diccionario, 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 di traduce di elevii direct. Germana, romana. Deci, quando traduci cuvinte, il risultato, il risultato, il risultato che sono che diccionario che ci sono molto funzionale regione, diccionario, non lo stia. Ok. Dari, ci vediamo, ci citiamo come aci, 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 di aci, aci aci, 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 aici si hai liste di cominte dupo anumite teme e questa è archi utile, che dacca un vers come recomand io al di start, se facci mai un te o lista di teme, per quale vrei sa vorbesc, fluent in lingua germana adica temele professionale, di hobby, interesse private si nu sa inveti, pur si pur ca un sovolant care apasa pe un buton, o aplicatie si inveti acelasi cuvinte ca de milioane de alti oani cu o aplicatie asta inveti, tu te specializezi pe ceea ce iti trebuie tie in primul rand apoi inveti cum spune ursuletul panda, suzeta sau cuvintele astea care poate nu iti trebuie inauna si de pe dati ne inchipuim ca de pe dati repar ceasuri atunci este o lista de 17 cuvinte care tin de ceasuri poate iti e utile asta, poate nu sau technologia automobilistica toti cuvintele ca in zin Diktionari care sunt la automobilistica cum spune de pe dati eu nu stiam ca LICHT MASHINA sunt astea alternatorul sau un ATACH etc. sau APRINDER etc. deci iti recomand fati o lista de 6 temene che dovrebbero essere più fluente e la lista respectiva se stia inglese o russo o altre linee probabilmente questa lista va essere più lunga se stia se stia se stia automobilistica in inglese sono mai multe 5.000 e qui è già una lista è molto valutosa e un altro piccolo è che se stia se stia non è già tempo l'uomo può registrare se stia se stia l'uomo può si sono diverse pronunzazioni e una volta si 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 compara pronunzazioni di si 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 si